Il voto del 10 giugno fa voltare pagina nei comuni di Atena Lucana, Rocca Gloriosa, Novivelia e Aquara e Polla torna a dare fiducia a Rocco Giuliano. Perito sceglie l'ex assessore Carlo Cirillo e invece che l'ex sindaco Ivana Cirillo. Quest'ultima ha guidato lente per oltre un anno al posto del compianto sindaco Antonello Apolito scomparso nel 2017 all'età di 37 anni dopo aver combattuto con una grave malattia. Ad Atena Lucana a metà scrutinio e dopo un lungo testa a testa tra le due uniche liste in corsa per il sindaco scente Pasquale Iuzzolino sono svanite le possibilità di vittoria. Il nuovo sindaco è Luigi Vertucci che negli ultimi 5 anni ha occupato i banchi della minoranza che è riuscito nell'impresa grazie ai 40 voti in più incassati. Un risultato che pone fine alla politica di Iuzzolino e al suo compagno politico Sergio Annunziata insieme hanno governato Atena negli ultimi 15 anni. Noviveglia richiama a guidare il comune Adriano De Vita che ha incassato il 63,29% delle preferenze superando di gran lunga la lista di Angelo Giordano nella quale correva il sindaco scente e consigliere regionale in carica Maria Ricchiuti. Giordano ha ottenuto il 36,67% dei voti. La compagine di Giancarlo De Vita con i suoi 7 voti si è fermata allo 0,43%. Si trattava di una lista civetta presentata per aiutare De Vita. Fino all'ultimo a 9 infatti si è avuto la sensazione che Giordano rinunciasse alla corsa. Lo scrutinio è iniziato a notte inoltrata perché è stato necessario ricontare le schede in quanto una risultava non registrata nel registro generale. Anche a Rocca Gloriosa torna al timone un ex sindaco. La fascia tricolore è andata a Giuseppe Balbi che succede a Nicola Marotta. Quest'ultimo pur potendosi ricandidare ha rinunciato alla corsa e come lui hanno fatto tutti gli altri nella maggioranza. Balbi si è sfidato con la lista civetta guidata da Pietro Vincenzo Cetrangolo. Al voto si è recato il 48,29% degli aventi diritto. Delle 1050 schede scrutinate 105 sono risultate nulle. Polla non cambia e resta fedele alla gestione del suo sindaco storico Rocco Giuliano con 2.417 preferenze e batte il suo unico avversario fortunato da Rista che si ferma a 634 voti. Anche qui sono state tante le schede annullate 181. Perito dopo la prematura scomparsa del suo sindaco Apolito riparte con Carlo Cirillo. Acquara invece boccia il sindaco usciente Pasquale Brenca e promuove con 83 voti in più Antonio Marino direttore della locale banca di credito. Nulla da fare nemmeno per l'ex vice sindaco Franco Martino e Rosaria Corvino.